È un legame che è iniziato nel 2012 con la VL, proseguita negli anni siamo stati sempre fedeli come piccoli sostenitori, non è che riusciamo a fare grandi cose, ma abbiamo sempre fatto parte del consorzio Desero Basket. Abbiamo aderito a questa iniziativa della VL Card sicuramente sull'artist del presidente del consorzio, Luciano Amadori, un amico. Ho visto che questa iniziativa ha avuto un bel successo, l'abbiamo replicata dando la possibilità ai nostri collaboratori delle filiari di peso Fano e Montelambate di avere questa VL Card che consente di andare in diverse strutture commerciali e ottenere dei scondi particolari, tra cui anche i nostri negozi di illuminazione. In più hanno ricevuto in maggio una bella ferpa e una mascherina brandizzata. Sicuramente abbiamo dato una piccola mano anche alla VL perché venendo a mancare il pubblico in caso della partita della domenica è una maniera per aiutare ulteriormente. Sono ormai 9 anni che stiamo insieme con loro. È una stagione bella che ci sta dando soddisfazioni, in attesa sicuramente anche quella della Coppa Italia è stata una grande sorpresa per tutti e quindi peso ha riacquisito una bella visibilità su tutto il panorama nazionale come lo sport che l'ha caratterizzata per tanti anni. Noi siamo entusiasti di come sta andando. Speriamo di tornare al Palazzo e di vedere partite del Bivorco.